Non la faccio sta cosa, cioè poi mi hai detto un telefono, devo fare vedere come si scarica l'app ma solo perché il mio schermo è rotto, guarda che si scarica lo stesso anche se lo schermo è rotto perché l'app di Malossi è una bomba, faccio vedere come si fa, vieni a mano Vai su Play Store, se hai Android, un vecchio Android però non molla Vai qua, Digi Malossi, l'ho fatta fare 8 volte stava, sto video quindi ce l'ho già salvato con i preferiti, e qui installi, qua a Calderara di Reno ho internet a fiumi, come vedi, la propietà, stazione, là, eccoci qui Abbiamo un app ufficiale di Malossi, vedi ci sono tutti i leoncini, eccolo qui i leoncini che ho mandato ai baci Ci sono tutti gli animaletti, casco angelo, casco sovidente, casco incazzato, casco diavolo, olio, variatore, miranaggi non ci sono solo le ombrelline però alla fine potete mandare tutta la mamma per comincerla a farvi, a farvi comprare il nuovo motore